Prova finale, i personaggi, questa prova designerà il campionissimo, la campionissima della nostra trasmissione di secondo voi, al vincitore o alla vincitrice 5 milioni, al perdente o alla sconfitta 1 milione. Sono i personaggi, una galleria di personaggi di questi 50 anni. Aprite un momento, potete guardare attentamente le varie iscrizioni, come sempre alla base del tavolo, voi potete vedere da casa le parti iniziali e le varie domande che formano oggetto di questa gara, di questa prova finale. Avete guardato bene, attentamente? Questa gara vale la bellezza di 5 milioni e poi serve a laureare il campione che porta al primo posto il biglietto che vale 200 milioni. Pretore e poi giudice, scrisse tra l'altro il dramma, corruzione a palazzo di giustizia, ha schiacciato Carisi. Ugo Betti. Ugo Betti più uno, bene. Seconda domanda. Storico e politico antifascista, nato a Firenze nel 1900, fu ucciso col fratello Carlo in Francia, ha schiacciato Carisi. Nello Rosselli. Nello Rosselli, risposta esatta, più due. Forza, Ronchi, che fa? Ha perso l'energia. Con Carisi. E con Carisi non si può, ma bisogna tentare, pensi a quello che vince poi i 180 milioni, sai, 20 milioni in meno è una disperazione. Terza domanda. Nata a Pesaro nel 1922, debuttò alla Scala con Toscanini nel 1946. Ha schiacciato ancora una volta Carisi? Renata Tebaldi. Renata Tebaldi e va a più tre. Quarta domanda. La distanza, come sempre, è di 12 domande. Attore e autore, fu protagonista nel 1932 del film La Tavola dei Poveri. Raffaele Viviani. Raffaele Viviani, bene, va, più quattro. Forza, Ronchi, impegniamoci. Quinta domanda. Accademico d'Italia a soli 27 anni. Fu insignito del Nobel della Fisica. Dai, dai. Forza. Fermi, Enrico Fermi. Enrico Fermi, Enrico Fermi, va, più cinque. Più cinque. Autore, tra l'altro, della commedia Lippocampo. Fu il primo direttore della televisione italiana. Questo lo so, Sergio Pugliese. Lo cerchi però. Via. Ha schiacciato, gliel'ha suggerita. Pugliese. Pugliese, Sergio Pugliese. E abbiamo 5 a 1. Carisi, non sia troppo generoso, perché poi questo gioco riserva delle sorprese. Attenzione. Abbiamo la settima domanda. Fratello di una bellissima attrice di nome vera e nipote del marionettista Podrecca. Dica. Orio Vergani. Orio Vergani e va a più 6. A più 6. 6 a 1. Ottava domanda. Morta a Roma nel 1936. Era stato premio Nobel per la letteratura. Via. De Laedda. Grazie De Laedda. Abbiamo 6 a 2. Nonna domanda. Nato a Bologna il 19 aprile 1891. Fu autore, tra l'altro, del romanzo ironico Lo sa il tonno. Via. Riccardo Bacchelli. Riccardo Bacchelli, l'autore del Molino del Po. Oltre che di questa curiosa opera Lo sa il tonno. Una passione con uguale. 7 a 2. Come dice? Una passione con uguale. Un altro libro su. Va bene, va bene. Pensi lì, pensi lì. Dunque, abbiamo la decima domanda. Scultore e pittore. Attualmente vivente ad Ardea. Terminò nel 64. Giacomo Manzù di Bergamo. Certo, Giacomo Manzù. Bene, bene, bene. Abbiamo 8 a 2. Attenzione, ci sono altre due domande. Completiamo tutta la gara. Compositore e organista. Diresse per oltre 50 anni la cappella Sistina. Musicando soprattutto temi sacri. Forza. Il Perosi. Perosi, benissimo. Adesso si può interrompere la gara perché il punteggio è definitivo. Si può interrompere ma facciamola lo stesso, l'ultima domanda. Io direi, arbitro, arbitro, vogliamo completarla. Io direi, l'ultima domanda me la faccio fare. Certo, è giusto. Ritorniamo con la 3 qui perché voglio fare l'ultima domanda. Famoso giornalista, partecipò nel 1907 col Principe Borghese al ride automobilistico Pechino-Parigi. Luigi Barzini. Luigi Barzini si conferma campione. Campione secondo noi Andrea Carisi. 5 milioni ad Andrea Carisi, 1 milione a Maria Teresa Monchi.